Sì, credo che questo sia un aspetto, lo Stato ha messo 50 milioni, che serve solo ovviamente per le prime necessità, per l'emergenza più stretta. Noi come Regione abbiamo deliberato come Regione Toscana un milione e abbiamo anche aperto un conto corrente, insieme al lanci della Toscana, su cui anche altri comuni daranno un contributo. Poi penso che bisogna parlare soprattutto della prevenzione, perché i cittadini sanno che l'industria della catastrofe ogni anno ci costa 5 miliardi. Se spendessimo a mio parere 10 miliardi, di cui 5 nella prevenzione per la sicurezza sismica e 5 per la sicurezza idrogeologica, nell'arco di 10 anni avremmo cambiato la realtà della sicurezza del territorio nel nostro Paese. Io mi permetto di suggerire anche una cosa precisa. Questo va ottenuto al di fuori del patto di stabilità, è ovvio, senza nemmeno preoccuparci molto, perché tutti i Paesi europei hanno ottenuto flessibilità e noi se non lo otteniamo su questo, che è un elemento che riguarda la vita dei cittadini, quindi sarebbe davvero drammatico. Però mi permetto di suggerire soprattutto che si costituisca per il territorio un ministero della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di chi si occupa in modo specifico di spendere questi soldi, di fare progetti, di controllare che i soldi si spendano bene. Secondo me lo Stato del Paese sul tema della sicurezza, in un territorio fragile per la sismica, in un territorio dove anche a causa di tante scelte sbagliate dal punto di vista idrogeologico si è sempre soggetti a alluvioni, a calamità ogni anno, un ministero per la prevenzione sul territorio sarebbe la necessità. Dotiamolo di 10 miliardi, facciamo questi investimenti pubblici, poi naturalmente questo sarebbe anche oggettivamente un impulso positivo all'economia. Sono centinaia di migliaia di posti di lavoro in modo stabile perché durerebbero 10 anni. È una sfida alla politica perché riguarda anche la democrazia. Se lo Stato non garantisce la sicurezza come potremmo noi ripresentarci tra qualche anno? Forse addirittura potrebbe avvenire prima con un altro disastro e ripetere sempre le stesse cose. Ora io credo che qui c'è davvero la necessità di fare una svolta. È possibile dal punto di vista finanziario, bisogna ovviamente organizzarci, bisogna anche fare una legge che non rinvia al 2050 l'obbligo a non costruire più sotterreni agricoli, deve essere un obbligo che parte subito, noi in Toscana l'abbiamo fatto. E poi bisogna dare, come mi pare si sta preoccupando di fare anche il Ministro del Rio, il Ministero delle Infrastrutture, un sostegno ai privati perché intervengano e mettano piano piano in sicurezza anche le loro abitazioni. Credo che il modo giusto è certo intervenire, ricostruire la scelta di Errani. Io lo conosco, è il migliore per affrontare un tema come questo, quindi ha fatto benissimo Renzi. Ma se non parliamo anche della prevenzione, credo che faremo solo una parte del nostro dovere. Grazie.